Alvia a Pistoia, un progetto pilota di educazione finanziaria di qualità è rivolto a nuclei familiari in condizioni di fragilità o vulnerabilità con l'obiettivo di dare strumenti per affrontare nel modo migliore i momenti di difficoltà economica e pianificare con maggiore consapevolezza il futuro. Pistoia si affianca così, terza città in Italia, alle esperienze sviluppate dai comuni di Milano e Bergamo. Siamo la terza città d'Italia che affronta questo tema concretamente perché con la crisi economica che ormai da oltre un decennio imperversa nel nostro paese anche i cittadini pistoiesi, soprattutto quelli in condizioni più fragili, ne sono colpiti. Per questo il progetto vuole andare proprio a far informare e formare il più largo numero di cittadini su quelle che sono le possibilità di gestire le proprie difficoltà economiche e di progettare appunto il proprio futuro su un percorso economico che possa dare loro delle risposte senza trovarsi ovviamente in situazioni di grosse difficoltà. L'educazione finanziaria offerta da Pistoia prevede sia incontri di sensibilizzazione che di accompagnamento personale con un servizio interamente gratuito. Il percorso è cofinanziato dal Comune e dalla Fondazione Caripit. Nello specifico si tratta di aiutare le persone prima tramite una sessione collettiva incontri collettivi e poi con un percorso di accompagnamento personale fatto da educatori del terzo settore abilitati e certificati a Norma Uni che aiutano proprio le persone a simulare il presente, il futuro, proteggersi dai rischi, gestire le spese e immaginare la propria vita.